Gara clandestina tra le vie di San Donato, ha travolto e ucciso un operaio di Salgareda. Presidio in piazza della CGL contro la possibile reintroduzione dei voucher. Visita oncologica in ritardo, il direttore generale Benazzi risponde ai nostri microfoni. Antonia e Luigi uniti fino alla fine, coniugi morti a poche ore di distanza. Telegiornale di Treviso, buonasera e ben ritrovati. In apertura come avete già sentito dal sommario la cronaca. Parliamo di una gara clandestina, una folle corsa per le vie di San Donato. Purtroppo travolto e ucciso in questa folle corsa un operaio di Salgareda. Tutti i dettagli nel servizio d'apertura. Vittime inconsapevole di una follia. A perdere la vita Giuliano Massimo Babbo, 53 anni, residente ad Eraclea. L'uomo stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro nella fabbrica 3B di Salgareda, quando è stato travolto ed ucciso da un'auto impazzita. Tutto è accaduto intorno alle 23, a provocare la tragedia di una folle gara di auto tra due kosovari nelle vie di San Donato di Piave. Un Audi A3 e un Alfa 147 a folle a velocità hanno continuato a sorpassarsi a vicenda, facendo una vera e propria gincana tra le auto. Ad un tratto l'automobilista dell'Audi ha perso il controllo della macchina ed ha invaso la corsia opposta. In quel momento stava sopraggiungendo la Ford di Babbo, che è stata centrata frontalmente. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al 53enne. Il kosovaro invece è uscito dalla vettura ed è fuggito a piedi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, hanno raccolto le testimonianze di altri automobilisti che avevano visto tutto. Di certo che le testimonianze acquisite sul posto vanno tutte in un'unica direzione di questa sorta di gara che i due conducevano. Ciò è desumibile dalla velocità con la quale percorrevano le strade, le manovre azzardate che effettuavano. È scattata la caccia all'uomo. L'Audi A3 risultava di proprietà di una cittadina residente a Padova, regolarmente assicurata, che era in uso al kosovaro un 21enne residente nel Trevigiano. Tra l'altro non poteva nemmeno guidare. Non era in possesso della patente di guida perché mai conseguita, è già impastato, era stato sanzionato proprio per guida senza patente. È stato l'altro kosovaro con il quale stava facendo la gara per elevarlo poco lontano dal luogo della tragedia doveva portarlo all'ospedale di Trieste ed è lì che i carabinieri lo hanno arrestato. Probabilmente i due stavano organizzando di uscire dal territorio italiano. Entrambi i kosovari, tutti e due di Treviso, sono stati arrestati. Il 21enne per omicidio stradale con l'aggravante della fuga, l'altro 26enne con nazionale per concorso in omicidio stradale ed omissioni di soccorso. Per i due si sono aperte le porte del carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia. Cambiamo argomento, mercato del lavoro. Sotto la prefettura ha Treviso presidio della CGL per dire no alla ventilata reintroduzione dei voucher dopo l'annullamento, ricordiamo, del referendum abrogativo. Una presa in giro attacca proprio il segretario della CGL, Vendrame. Sentiamo. Vaucer aboliti, anzi no, presidi in tutta Italia della CGL contro l'escamotage che il governo sta studiando per reintrodurre parzialmente i buoni lavoro. La ventilata abolizione aveva di fatto annullato il referendum abrogativo promosso dal sindacato. Ora, denuncia la stessa CGL, in Parlamento si discute di metterci una pezza che peggiorerebbe ulteriormente la situazione. Una delle proposte è in qualche modo ripristinare i voucher per le famiglie, su questo si può discutere, e l'altro è ripristinarlo per le imprese sotto i cinque dipendenti. Il che vuol dire di fatto liberalizzare ulteriormente quello che era un limite precedente che era di tipo economico. Le imprese sotto i cinque dipendenti sono tantissime. Da qui la protesta sotto il palazzo della prefettura. Verrebbe calpestata la volontà espressa dai cittadini con le firme raccolte per il referendum, ben 33.000 solo nella marca. Se il motivo per cui non si fa referendum è perché in termini legislativi si è intervenuti nella direzione dei proponenti referendum, non è che dopo dieci giorni, dopo un mese, dopo pochissimo tempo, le rientroduci come nulla fosse, perché altrimenti stai prendendo in giro gli italiani. Che siano le famiglie a utilizzare per i servizi di cui necessitano strumenti simili ai voucher può anche andar bene, che siano le imprese no. Dobbiamo ricordare che il voucher è il pagamento di lavoro occasionale, non può pagare lavoro vero, lavoro dipendente a tutti gli effetti. C'è già la flessibilità che basta. Sanità, un telespettatore aveva denunciato un grave ritardo per una visita oncologica. Oggi ha risposto il direttore generale dell'Ulsa numero 2. Sentiamo. Almeno sapere che cosa devo fare, che terapia fare, quale medicine prendere. L'appello denuncia del pensionato di Quinto, tormentato dai dolori ed in attesa da 35 giorni di una visita specialistica che doveva essere erogata in dieci giorni, ha trovato immediata risposta da parte dell'Ulsa 2 della marca. Dopo il nostro servizio, la tanto attesa visita è stata fissata per lunedì mattina. A sobbalzare sulla sedia, vedendo l'appello in tv, un medico ortopedico che presta servizio a Borgo Cavalli. Noi a Borgo Cavalli abbiamo il 100% delle evasioni delle visite brevi in dieci giorni, quindi rispettiamo i tempi d'attesa, per cui credo che essenzialmente sia stato alla base anche un bel problema di comunicazione. In ogni caso, vista la conoscenza e visto anche la possibilità di farlo, mi sono dato disponibile per fare la visita al signore di Quinto lunedì mattina in regime ambulatoriale e ho dato la mia disponibilità. Del problema è stato subito informato il direttore generale. Intanto, prima cosa, volevo scusarmi con la persona. Devo dire che più che un difetto legato alle liste d'attesa, è un difetto legato ovviamente alla comunicazione tra CUP che ha sostanzialmente preso in carico la persona e poi si è dimenticato di collocarla all'interno delle prenotazioni che il posto c'era, è stato veramente uno stacco tra la disponibilità e poi quello che giustamente lui chiedeva e si è creata questa situazione di forme, mi scuso con l'utente, non succederà più. Un problema di comunicazione tra la struttura sanitaria ed il paziente legato al cambio di gestione del CUP che sta creando non pochi problemi agli utenti. Il caso del pensionato infatti non è isolato e sono parecchi coloro che lamentano negli ultimi due mesi trattamenti analoghi, tant'è che l'Ulsa 2 della marca rivedrà i termini della gestione del centro unico di prenotazione. Antonio e Luigi uniti fino all'ultimo giorno. È morta a poche ore dopo il funerale del marito col quale aveva trascorso ben a 68 anni della sua vita. Una storia che ha commosso tutta la marca. Morta a poche ore dopo il funerale dell'uomo con cui aveva trascorso ben 68 anni di vita insieme, Antonia e Luigi uniti anche nella morte. Una storia che ha commosso Godega di Sant'Urbano dove mercoledì sera, poche ore dopo il termine del funerale del marito Luigi Barel, mancato a 95 anni, la moglie Maria Buttazzi che di anni ne aveva 92 si è sentita male ed è deceduta ieri mattina. Il suo cuore che fino a quel momento non aveva dato alcun problema non arretto al distacco dal marito, sposato l'11 novembre del 1949. Nati negli anni 20 erano cresciuti insieme nel borgo di Baver di Pianzano. Le famiglie abitavano a poca distanza, i due ragazzi si erano conosciuti e innamorati. Il matrimonio, due figli Gabriele e Roberto, una vita di lavoro nei campi. 15 giorni fa le condizioni di Luigi avevano iniziato ad aggravarsi. La sera del funerale è toccato ad Antonia che per gli acciacchi dell'età non aveva potuto partecipare alla funzione. Il funerale di Antonia Buttazzi verrà celebrato lunedì alle 15.30 nella chiesa di Pianzano. E terminiamo con la nostra programmazione. Questa sera a partire dalle 21.15 torna Focus con Luigi Bacialli, in studio con il direttore Patrizio Miatello, Ivan Palasgo, Marco Carrai, Valente, Chiaregato, Cristian Valandro e Massimo Grella. Dunque io vi lascio alle previsioni meteo per le prossime ore. Una buona serata a tutti. Un'alta pressione, abbastanza decisa, sta investendo un po' tutto il nostro territorio. Questa terrà lontano i sistemi perturbati che solo marginalmente interesseranno le zone alpine. Quindi prevediamo sul Treviso, sul Trevigiano, per domani e per dopodomani, inizialmente un po' di nuvolosità, ripeto più evidente, verso nord, verso i rilievi, e poi gran sereno. Gran sereno per due giorni e per gran parte, almeno, della prima parte della prossima settimana. I venti sono deboli, con qualche rinforzo in direzione variabile. Le temperature sono piuttosto alte, le minimi intorno a 18-19 gradi, le massime intorno a 27-28, anche 29 gradi per domenica. Per finire l'Alto Adriatico, da poco mosso a localmente mosso. È tutto.